Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni è il bacio di Biden e la stampa va in tilt e lo chiama Joe, patriarca. Non c'è niente da ridere, è tutto vero. La stampa non è quel giornale che due giorni fa ha omesso completamente la notizia che la Meloni era negli Stati Uniti? La stampa non è quel giornale che ha omesso completamente la notizia in prima pagina del disastro del super bonus? Non sono quelli che hanno omesso completamente in prima pagina il ritorno in Italia di Chico Forti? Ah, è quel bel giornale che omette le notizie importanti della giornata perché non portano acqua al mulino della propaganda di sinistra? Beh, insomma, ne ho parlato l'altro giorno, l'avete visto? C'erano tre notizie importanti l'altro giorno. Il ritorno di Chico Forti, il disastro del super bonus con il deficit al 7,2% e l'incontro di Meloni con Joe Biden. Tre notizie importantissime nella prima pagina della stampa non c'erano. Nella prima pagina del Fatto Quotidiano non c'erano. Su Repubblica ce n'erano due su tre. Avevano tralasciato quella del super bonus e avevano messo in un trafiletto Meloni da Biden, torna Chico Forti, in un trafiletto a destra. Poi per loro la notizia più importante era Meloni nel bunker dell'Abruzzo, insomma. Questa è la stampa fiancheggiatrice della sinistra. Non è che quelli che fiancheggiano la destra siano molto meglio, anche quelli di destra fanno lo stesso lavoro, però a parti inverse. Quindi oggi, amici miei, se volete leggere un giornale che in prima pagina vi mette la gerarchia delle notizie, cioè se volete un giornale che con un colpo d'occhio nella prima pagina capite quali sono le notizie importanti del giorno, indipendentemente che favoriscano la destra o favoriscano la sinistra, io vi consiglio, non mi hanno pagato, però io vi consiglio il Corriere della Sera. Tutti gli altri vi raccontano quello che a loro, in quel momento, serve raccontare per propaganda politica. Poi voi fate quello che volete. Di solito al tifoso piace sentire quello che vuol sentirsi dire, ma io vi ho sempre consigliato non fate i tifosi, ma utilizzate la vostra testa. Certo che se leggete un giornale che non vi dice le notizie, le cancella completamente, non potete neanche valutare le notizie perché se non ci sono, torniamo al bacio di Biden. Allora, io mi sono già fatto un'idea, però fa specie che la stampa si occupa del bacio di Biden alla Meloni, ma non dell'incontro e non di tutto il resto. Allora, un altro incontro Meloni-Biden andavano in giro con la manina. Questa volta Biden dà il bacino sulla fronte alla Meloni, come se fosse il nonno. Non mi sembra un comportamento tra capi di governo e capi di Stato. Non è propriamente un comportamento... Capisco anche l'imbarazzo della Meloni e il Presidente degli Stati Uniti che gli dico, mi raccomando, stai lontano, c'è niente manina, niente bacini, io sono un capo di governo, non sono tua figlia che ha dieci anni. Quindi a me né la prima volta che andavano in giro con la manina è piaciuto, né adesso il bacino sulla testolina come se fosse sua figlia. A me non è piaciuto. Capisco anche che la Meloni cosa doveva fare? Doveva rispondergli male. Sei nella stanza ovale col Presidente degli Stati Uniti, la superpotenza, lo fai passare come c'è una grande affinità tra i due paesi. Ecco, insomma, diciamo meglio averceli amici che stargli sulle scatole. Questo è il punto. Però l'attacco della stampa che mi fa diventare Joe Biden come Joe Patriarca, insomma, io, allora, se volevate fare un discorso semiserio avreste potuto fare quello che ho fatto io, dicendo non è elegante che tra due capi di Stato, governo, chiamateli come volete, prima vanno in giro manina nella manina e poi il bacino sulla fronte come se fosse sua figlia. Io avrei detto, sinceramente, non è un bello spettacolo da vedere. Non è un bello spettacolo da vedere. Però non sarei andato al patriarcato, perché quella lì è una sciocchezza. La storia del patriarcato che abbiamo tirato fuori con il caso Giulia, dove hanno riversato contro la Meloni e il governo quello che era successo, perché quel Turetta era nato nel patriarcato e quindi il germe del patriarcato gli aveva fatto fare quelle cose, quindi colpa della Meloni quando poi, voi sapete perfettamente che il patriarcato non è di destra né di sinistra. Il patriarcato c'era in Italia negli anni 50-60, basta guardare i film di quell'epoca, vedete che il patriarcato era diffusissimo in tutte le classi sociali, stratti sociali, economici. Il patriarcato c'era ovunque e dappertutto. Era proprio nella mentalità, nel DNA e non ci si faceva neanche caso. Era normale. Quindi adesso che cosa fa la stampa? Tira fuori il patriarcato come dire, come? Questo è il governo, patria, famiglia, tutte quelle robe lì? Un governo che ha nel DNA il patriarcato e il capo del governo si fa dare i bacini come se fosse la figlia, vanno in giro mano nella mano il patriarca Joe. Come? La Meloni che vuole il patriarcato subisce, capito, qual è il messaggio? Come? La donna forte, quella del patriarcato italiano, che subisce il patriarcato da Joe patriarca. Avete capito? Tutta l'elucubrazione mentale per attaccare la Meloni. Avrebbero fatto invece una figura molto più corretta, se avessero detto, non ci è sembrato bello vedere queste scene, che sei il nonno con la figlia, il nonno con la nipote, adesso ti porto a prendere il gelato, vieni, dammi la mano che ti parla. Cosa vuoi? Il cono con la vaniglia? Quindi è un'immagine che non è piaciuta neanche a me. Ma cosa doveva fare la Meloni? Togliti, ma cosa vuoi? Insomma, dovete anche capire l'imbarazzo in cui si possa essere trovata Giorgia Meloni con Joe Biden che fa il nonno. Non credo che se ci fosse stato come premier Giuseppe Conte sarebbero andati in giro, mano nella manina e Biden gli dava il bacino in testa. Giuseppe, caro, figlio, beggio, ti porto a mangiare un gelato, vuoi cioccolato o una panna? Ecco. Quindi, non è piaciuto neanche a me, ma tirar fuori Joe Patriarca, insomma, si può dire ridicoli? Eh sì. Sebo di, la stampa, in senso come stampa giornalistica, è scesa a un livello in Italia molto, molto basso, molto, molto basso. Arrivederci a tutti e grazie.